Polizia Viterbo, operatore 23. Buonasera, sono Noemi, una bambina, e vi vorrei ringraziare con una lettera. Posso leggerla? Sì, prego. Vai, Noemi. Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto da fare, soprattutto con questa emergenza del coronavirus. State passando di strada in strada a dire a tutti i cittadini di rimanere in casa, anche se purtroppo alcune persone non rispettano le regole. Continuate ad essere meravigliosi e un grande grazie ai medici che anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare tante persone malate. Un grazie a tutti voi da Noemi, vi voglio bene. Grazie Noemi, ti ringraziamo tantissimo. Ciao Un bacione forte forte, grazie Noemi. Ciao 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 Ciao